Sentire la voce di tutti quanti voi per accompagnare i VIA, 18 secondi alla partenza di questa terza onda, noi ci spostiamo, ci siamo, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, VIA! Si parte terza e ultima onda del maratone di VIA della SEA da Roma, Maratone 2022! Dai ragazzi, su come vedi? Chi parte con i cellulari, chi parte tra vestito? Siamo in ritardo su Carlinone, siamo all'interno lo stesso, c'è chi parte ovviamente con la bandiera, chi sta partendo con un riferimento anche all'Ucraina, con la partenza di VIA. Naturalmente con simboli della pace. Tantissimi, con i cartelli ecco, con i celluli, la base, qui in partenza, chi aspetta un fotografo, un camera, per farci riprendere e portare via, ma soprattutto con i suoi, come la posta, che parte la portava e la salto di VIA, perché non so, bottiglie! Buon anno, mi ha giusto! E' una cosa! E' una cosa! E' una cosa! E' una cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' una cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! Mi sento presente, mi sento presente, mi sento sicure. Ciao ragazze, buon divertimento. Ciao, ciao. E' bellissimo Carlo perché poi ci sono tantissimi ascoltatori di Radio 105 che ti stanno facendo riconoscere, insomma è davvero una meraviglia. E' soprattutto anche per loro, finalmente darti anche un voto, abituati a ascoltarmi solo, quindi fa parte anche questo del gioco. Come allo stesso tempo sto vedendo tanti amici, nonostante l'onda sterminata, tanti amici che mi escono a riconoscere e a salutare. Ed è bello anche quello, siamo tanti. Ciao. 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 E' bello anche con i passecchini. Al via di questa gara, ancora in un po' di meno, in un po' di meno. Ciao. Ciao. Siamo in un momento davvero molto storico, molto particolare, anche molto difficile. Siamo in un momento davvero molto storico, molto particolare, anche molto difficile. è un bel segno, evidentemente, un bel simbolo appunto di un cuore, di una evoluzione. Non ci sono differenze, tutti con lo stesso personale. Lo stesso che con Star. è un bel simbolo appunto di un po' di meno, molto particolare, anche molto particolare. Siamo arrivati, forza! Siamo in un po' di meno, molto particolare, anche molto particolare. Siamo in un po' di meno. 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 Siamo in un po'. Siamo in un po'. Siamo in un po'. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. , a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.